Era l'incubo di tutti i condomini. Una famiglia si era vista costretta a cambiare casa pur di non avere più a che fare con le sue vessazioni. Tutto era cominciato qualche anno fa quando l'uomo, un 49 anni di Riccione, descritto da chi gli viveva attorno come facile a litigio, se l'era presa con una donna e ne aveva danneggiato il portone di casa. Nel tempo il soggetto aveva preso di mira anche altri nuclei familiari del palazzo riccionese di proprietà dell'Acer. Ogni pretesto era buono, hanno raccontato i vicini, per innescare una polemica che talvolta finiva con le botte. Il caso più grave, quello che ha visto coinvolto un minore. Secondo quanto riportato dai carvinieri, il 49enne in un'occasione aveva dapprima picchiato a sangue un uomo costringendo il figlio, un ragazzino a guardare e poi se l'era presa con quest'ultimo facendolo finire in ospedale con frattura al polso e alla mano. Una situazione insostenibile andata avanti per anni fino al termine del 2018 quando alcuni vicini hanno deciso di denunciarlo. Da lì sono partite le indagini che hanno portato all'arresto per atti persecutori e lesioni aggravate. Persino il padre della riccionese era finito in carcere qualche anno fa per tentato omicidio dato che aveva preso a martellate un condomino. Purtroppo un episodio che mette in evidenza come talvolta ci siano delle situazioni di litigiosità che possono addirittura scadurire e portare alla violenza e poi quello che in realtà è stato ricostruito e messo in evidenza dalle indagini. Un soggetto che si è visto raggiunto da un provvedimento caudolare restrittivo in carcere dove gli sono stati contestati i reati di lesione personali, di atti persecutori e di danneggiamento.